Siamo molto attivi sulla promozione del vino ma sappiamo che il vino si promuove meglio, molto meglio se abbinato al territorio. Il binomio vino-territorio è fondamentale per cui abbiamo voluto creare le condizioni attraverso uno strumento tecnologico, un sito internet che consente di localizzare facilmente tutti i siti culturali e le cantine con abbinati anche ristoranti. Il turismo enogastronomico è fondamentale per la valorizzazione dei nostri prodotti e in questo senso il progetto è stato sviluppato. Un binomio perfetto, possiamo dire, quello tra il vino abruzzese e le meraviglie della nostra regione? Assolutamente sì, ne abbiamo tantissime. Abbiamo avuto difficoltà anche nel cercare di selezionare in questi primi dieci percorsi perché c'è un'abbondanza incredibile. Abbiamo cultura, storia, architettura, paesaggi, natura veramente da mostrare con tanto orgoglio, abbinato a quello che è la nostra mission, cioè la valorizzazione delle nostre cantine, dei nostri vigneti. La cosa è abbastanza facile da fare, chiaramente portarlo in giro per il mondo è importante, è importante che l'Abruzzo venga sempre più riconosciuto come territorio. Non è facile perché questo è un primo passo in questa direzione assolutamente da percorrere.